La scuola dalle verifiche fatte è una scuola che non ha la necessità di essere affatto chiusa. Il liceo scientifico di Via De Concilis di Avellino è sicuro e non ha bisogno di interventi. E' questo l'esito dell'indagine commissionata dalla provincia per fugare ogni dubbio sulla staticità sismica della struttura. Nelle scorse settimane i genitori degli alunni che frequentano l'istituto avevano manifestato preoccupazione ipotizzando addirittura la necessità di chiudere l'edificio. I riscontri della ricerca condotta dall'ingegnere Luigi Peti vanno in tutt'altra direzione. Lo studio è stato realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno, Icorp e Lace. E' una scuola certamente sicura per le funzioni che sta assolvendo. Naturalmente come tutti gli edifici che sono stati costruiti qualche anno fa magari non è in grado di soddisfare tutti i prerequisiti che sono delle norme ma ciò non significa che non sia sicura come scuola. In questo caso noi abbiamo un edificio che ha una buona concezione iniziale, una ottima costruzione, d'altra parte ha superato una serie di eventi sismici, non ultimo quello del 1980, che ha determinato alcune piccole tipologie di danneggiamento che abbiamo riscontrato in questa fase su cui già si è intervenuto. E per cui da questo punto, anche da questo punto di vista, se ne comprende l'abbondanza. Ma d'altra parte è chiaro che le nuove norme, anche se sono molto attenti a tutta una serie di aspetti, lasciano proprio nel caso degli edifici esistenti la possibilità di non dover matematicamente verificare ciò che è chiesto a un nuovo edificio. Questo è il punto chiave. Eppure perché le verifiche delle costruzioni in zona sismica si basano su una conoscenza di natura probabilistica del fenomeno. Noi oggi non siamo in grado di sapere quando accade, quando accadrà, cosa accadrà domani o dopo domani.